Perdere fa male sempre, ma se i sondaggi, almeno per il PD, un assaggio verosimile di ciò che sarebbe uscito dalle urne e lo avevano anticipato, il tonfo della Lega all'interno della coalizione di centrodestra è senz'altro più pesante da accettare. La Lega sicuramente ha pagato il fatto di stare dentro il governo. Questo è un elemento che già conoscevamo e che sapevamo, un rischio che sapevamo essere presenti, però è stata fatta questa scelta di prendersi delle responsabilità anche contro l'interesse partitico personale. La disfatta della Lega è stata pesantissima in tutta la provincia di Sondrio, soprattutto in Altavalle. Difficile non collegarla ai malumori legati alla sanità. Sono convinto che quello che è stato fatto sia a livello di regione sia a livello di Lega locale sia sempre stato fatto per il bene della gente e nell'interesse generale di tutto il complesso della sanità provinciale. Tutti i clamori e furori che sono usciti sicuramente hanno fatto male nel complesso a tutta la politica sanitaria provinciale. Questo è un dato in dubbio. Sorrisi tirati anche in casa PD dove non si può certo festeggiare per questa vittoria che dice il segretario provinciale Iannotti visti i risultati di Lega e Forza Italia non è del centro-destra ma è della destra to cura. Merito anche di un astensionismo importante, 5 milioni di non votanti la dicono lunga sulla distanza tra politica e cittadini e del meccanismo elettorale ma anche di innegabili sbagli che non si possono certo attribuire ad altri. Il dato nazionale è in linea con il dato del 2018, quindi non abbiamo perso voti, non abbiamo guadagnato. Chiaramente ci aspettavamo un risultato maggiore, questo è in dubbio. Questa legge elettorale con un quarto di seggi che vengono attribuiti con il meccanismo dell'uninominale presuppone il fatto che ci siano alleanze più larghe possibili. Il centro-destra è stato in grado di farlo, noi purtroppo non siamo stati in grado di farlo. Quindi ci troviamo in una situazione in cui il dato elettorale è chiaro che ci penalizza. Dopo il risponso impietoso delle urne, tanto per la Lega quanto per il PD, si tratta di correggere il tiro e di rimettersi a lavorare. Ha vinto la destra, quindi la destra da domani governerà. Spero che lo faccia il più presto possibile perché ci sono importanti passaggi in Parlamento come l'approvazione della legge di bilancio e poi i provvedimenti per far fronte alla crisi economica in atto, al rincaro dei prezzi, dell'energia. Quindi c'è molto da fare. Noi faremo un'opposizione anche costruttiva, dura, costruttiva e quindi che si parta il più in fretta possibile. La Lega riparte dal territorio, dal confronto, dalle riunioni tra i militanti che stanno ripartendo, dalla ricostruzione delle sezioni che sono già in gran parte dotate di un segretario eletto. Quindi l'obiettivo è di completare questo processo di costruzione di un sistema capillare diffuso sul territorio e andare avanti soprattutto con quelli che sono i nostri temi più congeniali, cioè autonomia, sicurezza, padroni a casa nostra. La Lega torna a fare la Lega? La Lega deve tornare a fare la Lega e quando la Lega fa la Lega non ce n'è per nessuno. Prossimo appuntamento, le elezioni regionali. Dobbiamo metterci insieme, insomma, le elezioni regionali sono elezioni dove si vince o si perde al primo turno con un voto. Quindi è evidente che sulle nazionali non siamo riusciti a metterci insieme, soprattutto sull'unominale. Qui dobbiamo riuscire a tutti i costi se vogliamo vincere. Vincere